Musica Ancora pochissimi istanti e prenderanno il loro posto in campo le due squadre che purtroppo ai loro sono uscite sconfitte nelle precedenti partite da una parte il Real Madrid, dall'altra il Bayern di Monaco Invito queste due squadre a prendere posto nel tunnel per l'ingresso ufficiale poi partiremo con la prossima sfida che ricordo decreterà nell'arco di 30 minuti più eventuali rigori, la terza e la quarta classificata